Perchè ne sei andato a cercare? Pettate la mano. La Befana ti porterà sul conto della fondazione un paio di milioni di euro. In cambio mi serve una legge sulle periferie. Ma siamo qua che succede? O si diventa come Las Vegas. Tu devi far solo la tua parte, il resto ci penso io. Tra qualche giorno il tuo partito, il governo, salta tutto per aria. Chiederò ai miei referenti di partito. I tuoi referenti non esistono più. Possiamo comprare chiunque. Tu mi avevi detto che mi coprivi, che mi proteggevi. Tu non hai fatto un cazzo! Ti sto chiedendo quello che mi spetta adesso! Però il mio colore è mio! Sei stato lui? È stata Roma.